buio pressoché assoluto o assai prevalente che è imperversa sulla pineta. Davvero sembra di stare nella selva oscura di Dante Alighieri, perdete ogni speranza voi che entrate, così si esprimeva il sommo poeta. In ogni caso qui stiamo parlando di una situazione pericolosissima perché comprendete bene che col calare del buio, col calare delle tenebre questa situazione crea il humus fertile per i malintenzionati come purtroppo è accaduto più volte. Non a caso proprio in queste zone vediamo anche l'area furtiva che viene gettata, viene buttata, borse che evidentemente sono state scippate e quant'altro perché tanto i malfattori possono agire e gettare quanto loro non occorre proprio in questa zona sapendo che il buio nasconde ogni azione. Alcuni anni fa fu realizzato l'impianto di pubblica illuminazione però per un motivo o per un altro non ha mai funzionato a dovere. L'allora assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoccio, ora presidente del Consiglio Comunale di Taranto, mi espose delle difficoltà tecniche che c'erano. Sta di fatto che non so bene il motivo ma la pineta giace buia. Potrebbero esserci dei problemi all'impianto oppure in modo molto più semplice, le lampadine, le lampade non sarebbero fulminate, non sarebbero state sostituite. Ma sto ipotizzando, sto lanciando alcune ipotesi così. Sta di fatto che la pineta è completamente buia. Non stiamo parlando di una landa desolata, di una delle estreme periferie del mondo, dell'universo, ma stiamo parlando di una zona centrale di Taranto, una zona in cui insistono varie realtà, vari plessi, torri, residence e quant'altro. Stiamo parlando di una zona centrale, non è il borgo ma è una zona comunque centrale di Taranto. È davvero triste per chi abita affacciarsi e disperdere il proprio sguardo, il proprio orizzonte in un buio assoluto. È davvero qualcosa di deprimente e la depressione potrebbe passare in secondo piano. Ma stiamo parlando di una situazione di pericolosità sociale. Allora cerchiamo di monitorare la situazione, mi rivolgo all'amministrazione comunale, all'assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, il dottor Di Paola, per cercare di capire qual è la vera ragione di questo buio. Io ho segnalato la zona, lo stiamo facendo insieme, aspetto dall'assessore al ramo risposte, risposte concrete perché il cittadino paga le tasse e vuole i servizi. Non pretendiamo a Taranto l'occupazione, non pretendiamo, ormai ci siamo rassegnati a una diminuzio totale, è l'ambiente e siamo schiavi di Roma, del governo, Taranto città dei veleni. È a livello occupazionale peggio che andare di notte, ma almeno un po' di luce, un po' di illuminazione, datecela. Amministratori del comune di Taranto, signor sindaco, signor assessore ai lavori pubblici, per cortesia cercate di intervenire. Dai giardinetti dei Cortis, per intenderci Pineta di Biancona è tutto. Lo sportello del cittadino vi aspetta per un prossimo intervento.